Tre giorni dedicati al turismo e alle sue prospettive di sviluppo nel Canavese, con momenti di incontro fra operatori del settore e un educational tour per far conoscere il territorio a chi lo deve proporre nell'ambito di pacchetti di soggiorno e visita. Il tutto dal 27 al 29 settembre a Villa Malfatti e al Castello di San Giorgio, per iniziativa del Consorzio Operatori Turistici Valli del Canavese e con il supporto del periodico specializzato Quotidiano Travel. Nel giorno conclusivo si sono svolti un incontro sulle prospettive del turismo nazionale e internazionale nel Canavese e un workshop B2B per far dialogare direttamente operatori turistici e tour operator. Città metropolitana accompagna i suoi territori, tutti i suoi territori, per promuoverne le eccellenze. Il Canavese partecipa a delle progettazioni europee transfrontaliere, grazie alle quali atterrano sui territori finanziamenti. In Canavese, per esempio, c'è stato questo progetto di promozione dei vigneti alpini, quindi promozione delle eccellenze enogastronomiche, a cui è seguita un appendice di questo stesso progetto, che si chiamava Via Tour, per la promozione di percorsi ciclopedonali alla scoperta delle eccellenze gastronomiche. Tre terre canavesane sta cambiando il modo, ad esempio, in cui i castellamontesi riescono ad attrarre il turismo? Sì, assolutamente sì. È un modello nuovo che vede i comuni di Castellamonte, Aglie e San Giorgio mettersi assieme per promuoversi dal punto di vista turistico-ricettivo e culturale anche, soprattutto culturale, perché poi il fine ultimo è quello. Stiamo lavorando assieme, stiamo lavorando con un direttore artistico e lo strumento è il Festival della Reciprocità, che sta portando dei buoni risultati. Oltre alle presenze nei singoli eventi, si registra anche un incremento di presenza nelle strutture ricettive in questo territorio? Senza dubbio, senza dubbio. È anche legato alla progettualità, a mio avviso, degli eventi. Il mercato della terra, buona ceramica e poi anche calici e gli eventi concertistici sono stati abbinati quasi tutti a due giorni di iniziative, in modo tale da abbinarle almeno ad una notte di permanenza. Il coordinamento con i tour operator locali e coloro che gestiscono i B&B hanno fatto sì che il risultato nel tempo si sia dimostrato appunto quello che raccontavi, cioè un aumento anche visibile e tangibile dei posti letto occupati per gli eventi nel territorio. Cerchiamo di dare forza a quelle che sono le strutture, anche quelle un po' più piccoline, anche quelle un po' più decentrate, come il Canavese, che è una bellissima storia, è un bellissimo territorio, ma che comunque ha bisogno di promuoversi. Ha tutto quello che può avere un territorio meraviglioso come questo e anche dal punto di vista enogastronomico ha delle eccellenze veramente tra vini e altro veramente importanti.